Un atto di arroganza politica a pochi giorni dalla scadenza del Consiglio Comunale. Queste le parole di Luca Serfilippi che critica insieme ad altri anche la mancata condivisione con i cittadini. Fanesi che cosa replica? Sicuramente questo è uno strumento importante che serve alla città. È conveniente per tutti i cittadini perché abbiamo tolto le tasse IMU da pagare a tantissime persone che hanno chiesto di declassare il loro terreno edificabile. Del PRG se ne parla da tantissimo tempo. Abbiamo fatto diversi incontri sia con i portatori di interesse collettivo, gli ordini professionali, i commercianti, gli artigiani, il tavolo economico della città di Fano, ma anche con i cittadini. Abbiamo fatto una ventina di incontri nei quartieri. Di PRG se ne parla da tanto tempo, quindi nessun atto di arroganza. È la fine di un percorso legittimo, difficile e che sicuramente conviene alla città di Fano. Perché parlarne in consiglio proprio lunedì e all'indomani delle primarie? Perché l'ufficio di presidenza così è deciso. Fra l'altro noi di PRG parliamo da tanto tempo, a parte le osservazioni che comunque sono pubbliche, sono dispendibili ai consiglieri comunali. Abbiamo parlato fino ieri sera di contraddeduzioni alle osservazioni in Commissione Urbanistica, quindi tutto sommato non vedo motivi ostativi rispetto a questo e anzi bisogna procedere perché è importante che la città si dote di questo nuovo strumento urbanistico che oltre a ridurre l'IMU crea i presupposti affinché si possano creare queste community hub in ogni quartiere, in ogni frazione, per avere una socialità più diffusa in questa città e serve tantissimo averla anche come rete di salvaguardia delle nostre comunità che devono vivere insieme, devono creare relazioni e devono crescere non solo dal punto di vista economico, dal punto di vista delle relazioni, della coesione sociale e dell'attività che si fa tutti i giorni in questi centri che potranno essere aperti al più presto. Ed inoltre questo atto non è un atto di Cristian Fanesi, è un lavoro lungo, fatto dalla Giunta, dalla Giunta Comunale che interessa il Consiglio Comunale e che è partito diversi anni fa. Ci lavoriamo da cinque anni e è giusto concludere il lavoro iniziato.